un saluto a tutti cari sui amici bentornati per questo nuovo video oggi parliamo 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 di sicurezza domestica un argomento veramente molto caro a tutti gli amanti delle smart home molto caro sicuramente a tutti tutti vogliamo che il nostro appartamento la nostra casa la nostra residenza sia perfettamente al sicuro da eventuali malintenzionati protetta da intrusioni con sistemi intelligenti sistemi smart sistemi di sicurezza di vario genere bene non abbiamo mancato in passato di proporre tante soluzioni fai da te insomma come noi siamo soliti fare addirittura mi ricordo una volta vi ho proposto vi ho mostrato insomma un'idea che mi era venuta come realizzare una barriera laser con uno scegli uno qualcosa del genere insomma per prevenire eventualmente le intrusioni oggi invece siamo qui con un kit tutto in uno già realizzato facilissimo da installare è veramente funzionale e soprattutto economicissimo con una serie di accessori una serie di sensori sensori portafinestre sensori di movimento eccetera è una fantastica console con tasti soft touch collegata connessa wifi connessa addirittura tramite una sim telefonica in grado di inviare sms di fare telefonate in caso di allarme scattato o cose del genere quindi sistema molto economico che ci è stato messo gentilmente a disposizione da wibi italia che sapete probabilmente chi conosce questo canale youtube chi ci segue assiduamente sa che abbiamo già avuto modo di incontrare dispositivi distribuiti da questo store online italiano e andate a fargli vista perché c'è tantissima roba veramente interessante bene andiamo a guardare da vicino questo sistema di allarme tutto in uno un bel kit facilissimo da installare veramente ben fatto ben fatto e funzionale prima però di andare a buttarci a capofitto nella recensione di questo dispositivo vi ricordo di iscrivervi a questo canale di far visita al nostro blog all'indirizzo www.vincense.com e su tutti i nostri canali social e soprattutto ragazzi guardate il video fino alla fine perché alla fine ci sarà una piccola anteprima dei prossimi video insomma quelli che sono gli argomenti dei nuovi video quindi se siete curori se guardate il video fino alla fine perché alla fine c'è l'anteprima l'anteprima succosissima anteprima bene seguitemi ed eccoci qui ragazzi di fronte al sistema di allarme intelligente smart alarm system model zx trattino g30 by wibi wibi italia la marca non è scritta sul sulla confezione di questo sistema c'è scritto solamente il modello ma andando sul sito ho visto che il prodotto è realizzato da smart roll technology limited con base a shenzhen in cina e quindi lo possiamo dire diciamo 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 è un cinesone un cinesone ragazzi bene infatti per quello che costa diciamo che è un prodotto sicuramente economico ma vedremo che diciamo è uno starter kit veramente interessante per chi non ha voglia di spendere cifre esorbitanti ma vuole un sistema di allarme in casa efficiente e funzionale infatti leggendo le specifiche mi ha sorpreso ma adesso le guardiamo insieme intanto vediamo che questo sistema di allarme è powered by tuya smart bene ragazzi proprio pochi giorni fa abbiamo iniziato la rassegna di una serie di articoli dedicate a dedicati al mondo zigbee di tuya smart in questo caso non siamo di fronte a un dispositivo zigbee adesso andremo a vedere come funziona però ecco che volato e volata via qualcosa dalla mia scrivania però siamo nell'ecosistema tuya smart che voi conoscete noi conosciamo benissimo benissimo un ecosistema veramente vasto quindi già partiamo dal fatto che questo sistema di allarme si connette è connesso si connette tramite wifi al nostro smartphone tramite tuya smart e in quanto tale può essere utilizzato sia con google assistant che con l'assistente vocale di amazon vedete qui c'è un'anteprima della centralina completa di tasti completi display a colori eccetera ma adesso andremo a guardare da vicino prima di aprire il pacchettone però andiamo un attimino a guardare le specifiche bene vedete che le specifiche sono divise per centro hub il centro hub può essere alimentato trante micro usb a i classici 230 volt alternati oppure a 5 volt mille anzi probabilmente insomma si ha un trasformatore che va collegato alla 110 220 volt e poi alimenta i classici 5 volt della micro usb un ampere mille miliamper ore ha una batteria di backup inclusa questo è interessante perché naturalmente tutti i sistemi di allarme hanno di solito un sistema di backup a batteria per evitare insomma che un malintenzionato che vada a staccare la corrente di casa nostra possa disattivarlo quindi continua a funzionare anche se viene tolta la corrente con una batteria da ben 500 milliamper ore al litio ricaricabile consumo uscita sirena ecco frequenza radio questo è interessante funziona con una frequenza radio di 433 megahertz con la quale comunica con i sensori che adesso andremo a vedere poi c'è un interessantissimo gsm 850 900 1800 e 1900 megahertz pare insomma da quello che c'è scritto io ancora non ho spacchettato non ho aperto il prodotto che addirittura ci sia l'alloggiamento per una sim ragazzi qua la situazione si fa veramente interessante per un prodotto così economico insomma avere tutte questi tutte queste connettività è veramente eccezionale wifi 802 11 bgn temperatura di funzionamento da meno 10 gradi a più 55 gradi naturalmente è utilizzabile in ambiente interno è adatto agli ambienti interni perché va montato all'interno di casa poi abbiamo sensori di movimento peer peer motion sensor alimentato con batterie in corrente continua leggo tre batterie da 1,5 volt a a poi 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 anche questo ci dice che funziona come radio a 433 megahertz stesso range di temperatura poi abbiamo sensore porta finestra un pochino più sotto questo funziona con una batteria a litio cr2032 una sarebbero insomma quelle tonde a tre volte anche lui a 433 megahertz poi abbiamo ancora un telecomando remote che funziona anche lui con la stessa piccola batteria di quelle di quelle tonde a 433 megahertz e poi abbiamo dei tag rf id che ci permetteranno di attivare e disattivare l'allarme all'ingresso e l'uscita di casa quindi veramente tanta tanta roba eccolo qui vediamo qui il dettaglio del contenuto della confezione e che ora è riassunto anche qui da quest'altro lato vediamo cosa c'è nella confezione nella scatola un hub un sensore infrarosso magneto per porta con i sensori porta finestra per due ce ne sono due allarme via cavo dovrebbe essere la sirena credo due telecomandi due rf id e alimentazione con spina europea quindi l'alimentatore insomma per dare corrente al al hub al display quindi niente non ci rimane che spacchettare spacchettare e andare a vedere il contenuto sono veramente curioso questo dispositivo viene venduto per circa 150 euro per 150 euro c'è tutta questa pop o di roba all'interno ragazzi potete farvi un sistema di allarme connesso connesso quindi modernissimo compatibile con assistenti vocali fai da te è facilissimo da installare ora faremo una prova da banco che valida naturalmente come tipo di funzionamento non poi non dovrete parlare che appiccicare i dispositivi dove dove più vi aggrada nella vostra casa classici manualetti ecco qui vedete che qui c'è l'icona di smart life che come sapete se non lo sapete ve lo dico ora è la stessa cosa di tuya smart tuya smart o smart life sono la stessissima cosa abbiamo qui eccolo qui eccolo qui il display protetto naturalmente dalla solita pellicola protettiva perché sia perfetto al primo utilizzo andiamo a rimuoverlo ecco qui è anche elegante una finitura lucida questo sembra un tasto fisico si lo è è un tasto fisico qui c'è la parte dove suppongo sia sensibile ai tag rfd tasti numerico tasti di navigazione nel menu e qui c'è probabilmente insomma viene fuori qualche bip dell'audio qualcosa del genere e qui c'è il l'icona c'è il logo di wii 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 che è il distributore quindi andiamo ancora ad aprire anzi no guardiamolo da dietro guardiamolo da dietro dietro abbiamo ecco qui ragazzi l'alloggiamento per la sim c'è davvero c'è davvero alloggiamento per la sim gsm poi abbiamo qui un connettore per le zone poi andremo a vedere a cosa serve eventualmente ecco qui questo è il tasto di switch on off questo è il jack suppongo per la sirena c'è scritto siren siren e niente vedremo un pochino come funziona lo sto aprendo veramente per la prima volta insieme a voi questo qui è un è una cosa con la quale o senza la quale il mondo rimane tale quale non è altro che il supporto a parete che possiamo tassellare tassellare sul muro tramite questi due forellini e poi ecco qui andiamo letteralmente ad appendere il nostro hub il nostro display che poi sarà facilmente removibile sollevandolo ok quindi andiamo avanti andiamo avanti vediamo qui 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 ci sono addirittura delle resistenze delle resistenze credo qualcosa del genere che poi andremo a vedere a cosa servono ecco qui qui c'è la sirena la sirena che suona suona quando scatta l'allarme c'è possibilità della sirena ragazzi a me non piacciono proprio le sirene tante che a casa mia non le ho messe preferisco ricevere una notifica silenziosa sul mio smartphone e andare tramite le telecamere andare a guardare eventualmente cosa le ha innescate piuttosto che mettere in moto una sirena che dà solo fastidio ai vicini e nessuno gli da retta poi alla fine qui abbiamo due sensori porta finestra i classici sensori porta finestra poi ancora quanta roba quanta roba biadesivi qui di ogni genere questo è ecco qui il trasformatore per alimentare lab andiamo avanti ancora ecco qua questi sono i due porta chiavi con la rfd qui c'è un connettore ecco qui per collegare probabilmente a quella porta che abbiamo visto all'interno all'interno alle spalle del lab ancora ancora supporti e supporti e supportini di ogni genere ecco qui questo probabilmente è un supporto che si monta così in questo modo eccolo qui e poi qui ci si appiccica boh qualcosa la sirena non so qualcosina adesso andremo a vedere cosa ci possiamo appiccicare forse il sensore di movimento eccolo qui eccolo qui infatti si è proprio lui è proprio lui si può mettere in questo modo qui ecco qui e questo poi naturalmente va tassellato a parete o appiccicato con un biadesivo e questo qui è il pire il sensore di movimento a raggi infrarossi che eventualmente fa scattare l'allarme il contenuto della confezione non è ancora terminato c'è veramente di tutto e ci sono anche i due telecomandi come vedete c'è allarme off quindi l'occhietto aperto allarme on l'occhietto chiuso sos e il tasto home che probabilmente vuol dire che siamo a casa o qualcosa del genere adesso andremo a fare un pochino di test contenuto dalla confezione per adesso è terminato non c'è più niente abbiamo tirato fuori tutto questo po po di roba mettiamo via la confezione mettiamo così quasi ci sta un pochino tutto bastiamo in inquadratura vedete ragazzi quanta roba quanta roba portate a casa con questo kit andiamo a provare a metterlo in funzione eccoci qui ragazzi andiamo a vedere un pochino come funziona come vedete l'ho alimentato vedete qui il cavetto che sbuca sulla destra e va dietro con la micro usb che lo va ad alimentare naturalmente poi attaccato collegato al suo trasformatore vediamo di metterlo in maniera tale che sia ben visibile tramite la telecamera con cui sto riprendendo ecco qui come al solito quando c'è da mettere o qualcosa in equilibrio non riesce a stare in equilibrio ma credo insomma che si veda abbastanza vediamo vediamo un altro spessorino qui dietro cosa ci possiamo mettere cosa ci possiamo mettere cosa ci possiamo mettere cosa ci possiamo mettere vediamo questo scatolino se me lo regge un pochino perfettissimo adesso va veramente bene va veramente bene ecco qui è acceso è acceso è configurato adesso faccio andare un attimino in sovraimpressione la piccola procedura necessaria veramente semplicissimo per andare a abbinare questo hub questo pannello di controllo molto bello all'applicazione tuya smart veramente la solita procedura di pochissimi istanti dove dovrete andare semplicemente a dire qual è la vostra user id e password del wifi e lui si collegherà il dispositivo viene rilevato immediatamente probabilmente tramite bluetooth quindi suppongo che utilizzi il recentissimo sp 32 che dà il supporto bluetooth per il pairing tant'è che non ho dovuto fare alcuna fatica a connettere il dispositivo all'applicazione tuya smart poi ho aperto il sensore porta finestra vedete che si apre così da dietro ecco qui c'è questo sportellino e sono andato a accenderlo ecco qui c'è qui on e off ho dovuto spostare lo sbiccino su on perché arriva spento quindi mi raccomando se per caso nel caso acquistiate questo kit dovrete accendere il sensore porta finestra e dovrete accendere anche il sensore il pir il rilevatore di movimento infrarossi tramite questo micro switch vediamo se riesco a mostrarlo bene ecco qui qui nella posizione alta era spento quindi era nella posizione verso il basso come vedete appena mi muovo davanti al pir c'è questo led che si accende a testimoniare che sta rilevando un movimento una volta acceso il nostro hub non ci sarà bisogno di associare questi dispositivi all'hub ma sarà già tutto preconfigurato non dovrete fare altro che accenderli e già inizia a funzionare vediamo come funziona può funzionare in tantissimi modi possiamo andare ad agire direttamente quindi armare o disarmare vedete ci sono questi due tasti soft touch direttamente sul pannello di controllo quindi su questa console oppure potrete andare ad operare tramite il telecomando e quindi fare ecco qui armato o disarmato poi c'è la casetta la casetta invece significa praticamente lui inserisce un allarme che arma solamente i sensori perimetrali e quindi serve quando siete all'interno di casa e volete inserire l'allarme solo per eventuali intrusioni esterne non deve suonare mentre ci sono gli utenti insomma le persone che devono stare in casa in maniera lecita e quindi per esempio quando andremo ad attivare questa modalità tutte le rilevazioni del sensore di movimento all'interno di casa verranno ignorate invece quelle dei sensori porta finestre innescheranno effettivamente l'allarme quindi potrete girare liberamente in casa facendovi imbeccare dal sensore di movimento senza che lui suoni ma se aprite una finestra o una porta dove c'è il sensore porta finestra naturalmente ci sarà l'allarme che scatterà poi potrete armare e disarmare tramite questi due tag questi due rfd che sono già programmati vedete basta avvicinarlo sistema armato sistema disarmato ce ne sono due e quindi potrete collegarli al portachiavi prima di uscire di casa potete accendere o spegnere l'allarme andiamo a dare un'occhiata molto rapida alle impostazioni le impostazioni che le potrete diciamo utilizzare tramite il menu vedete con i tasti di scorrimento e andando all'interno dei vari menu per esempio qui c'è il registro eventi registro allarmi poi tornare indietro o andare alle impostazioni eccetera oppure più comodamente lo potete fare direttamente tramite il vostro smartphone e quindi andiamo ad aprire l'applicazione tuya smart eccola qui andiamo nell'allarme nel multifunction allarm ecco qui vediamo che abbiamo un pochino gli stessi quattro pulsanti che abbiamo sul telecomando quindi disarmato armato totale armato totale va a mettere l'allarme su tutti i sensori armato a casa quindi è un armato parziale e come vi dicevo prima andrà ad ignorare i rilevatori di movimento all'interno di casa e invece andrà a tenere attivo solamente l'armato perimetrale i sensori perimetrali e poi sos emergenza questo fa suonare l'allarme un tasto così secco di emergenza poi abbiamo il registro eventi poco sotto eccolo qui un po tutti i test che io ho fatto poc'anzi accessori e qui rileva due sensori porta finestra e un sensore di movimento e poi il configuratore configuratore vediamo che abbiamo un ritardo di uscita quindi quando noi andremo eventualmente ad armare ecco qui sistema armato vedete che c'è un conto alla rovescia sono esattamente questi dieci secondi lui ci da dieci secondi per uscire di casa dopodiché armerà l'allarme ecco qui adesso è armato disarmiamolo se andiamo ad aumentare questi dieci secondi naturalmente lui ci impiegherà più tempo potremmo scegliere fino non lo so penso che sia illimitato comunque mettiamo dieci secondi perché per questione di video vanno bene sono più che sufficienti oppure abbiamo dei timer di attivazione qui possiamo aggiungere una pianificazione poi abbiamo audio allarme e naturalmente suona se viene innescato allarme se disabilitiamo questo non ci sarà praticamente alcun suono potrebbe anche essere che scegliamo insomma che l'allarme sia silenzioso durata allarme tre minuti anche qui si può diminuire o aumentare appiacimento poi notifica per batteria del sensore scarica perché abbiamo visto che i sensori sono batteria notifica dell'allarme ritardo in entrata questo è al contrario praticamente quando entriamo in casa e quindi non so mettiamo in funzione un sensore porta finestra andiamo ad innescare uno di uno di questi allarmi lui non suona immediatamente ma suona con il ritardo che andiamo a impostare in questo parametro ritardo entrata praticamente ci dà il tempo quando entriamo di andare eventualmente sulla console qui a disattivare l'allarme poi tono del conto alla rovescia è quello che abbiamo visto prima che fa quel piccolo rumore quando fa il conto alla rovescia e poi qui abbiamo tutta la parte contatto per la sim quindi il numero telefonico da chiamare sms da cui mandare il messaggio chiamata di allarme sms di allarme e numeri di chiamate telefoniche che penso possono essere insomma più di un ecco qui fino fino a 9 numeri può chiamare poi reset configurazione lingua italiano e virtual password questa è importante perché va a impostare una sorta di pin che poi ci permette tramite tastiere numerico di disattivare o attivare l'allarme insomma qualora volessimo proteggerlo da disattivazioni non autorizzate o attivazioni non autorizzate quindi la password per inserire l'allarme facciamo un test facciamo un test proviamo a fare armato casa parziale ok quindi abbiamo armato tramite lo smartphone in maniera parziale ora vediamo che se muoviamo il nostro sensore di movimento e vedete che il lezio è acceso e ci ha rilevato non sta suonando questo significa che potremo girare liberamente in casa senza rischiare che ci sia un allarme se invece apriamo il sensore portafinestra ecco qui abbiamo dieci secondi dopo dieci secondi il nostro allarme inizierà a suonare eccolo qui eccolo qui che casino disarma sistema disarmato vi faccio notare che in questo momento non ho attaccato la sirena esterna supplementare ma sta suonando solamente la centralina questa è semplicissima da collegare non ve lo faccio neanche vedere c'è un mini jack eccolo qui che va collegato alle spalle che ho fatto vedere prima il connettore è un allarme ancora più forte in questo caso essendo una prova da banco non era necessario farlo rimettiamo il sensore portafinestra al suo posto e proviamo in questo caso a fare armato ok armato totale quindi abbiamo armato sia i due sensori portafinestra che il sensore di movimento questa volta non andiamo a muovere un sensore portafinestra ma proviamo a muovere il sensore di movimento a farci imbeccare ecco qui sistema disarmato quindi praticamente abbiamo visto come funziona in questo caso sia con questo sensore che con il sensore portafinestra abbiamo la possibilità anche tramite questo questa console direttamente abbiamo la possibilità di 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 entriamo nel menu allora spegniamo un attimino la parte smartphone ecco qui che in questo momento non ci serve più vi mostro come è possibile registrare anche dei comandi personalizzati nelle impostazioni vediamo un pochino lingua registra ecco qui abbiamo la possibilità di registrare degli allarmi personalizzati e quindi andiamo per esempio in registra questa è una prova di registrazione allarme ecco qui lui ha registrato questo questo allarme e 10 secondi ci ha dato di tempo per la registrazione volendo possiamo andare ad aumentare la durata e volendo possiamo andare ad eliminare questo allarme facciamo così ok e lo cancelliamo e questo può essere chiaramente poi utilizzato in maniera personalizzata all'interno degli allarmi cioè anziché suonare lui può dire quello insomma che abbiamo registrato oppure può essere utilizzato all'interno delle telefonate quando qualora insomma si è installata una sim per come registrazione vocale insomma che deve partire verso il destinatario della telefonata per chi ha l'allarme poi c'è il tasto di sos vi ho detto questo tasto di sos non fa altro che innescare l'allarme in maniera così secca ok avete visto che ha suonato direttamente bene devo dire che che è per quello che è il costo di questo allarme è veramente completo naturalmente sarà possibile acquistare altri accessori altri accessori supplementari altri sensori porta finestra nel caso ne vogliate di più altri rilevatori di movimento questo è un kit base che dà in dotazione ve lo ricordo ben due telecomandi ben due rf id un sensore di movimento due sensori porta finestra il lab la console di controllo centralizzata è la sirena oltre che il l'alimentatore il trasformatore ecco vi devo dire un'altra cosa ancora che ho visto leggendo in manuale che qui dietro c'è un interruttore c'è un interruttore di protezione di protezione contro la manomissione sostanzialmente lui si accorge se viene tolto dalla sua sede insomma che permette di fissarlo a parete quindi un ulteriore livello di sicurezza insomma devo dire che è veramente completo l'ho chiamato cinesone ma mi rimangio quello che ho detto perché è veramente ben fatto ripeto per quello che costa un sistema veramente carino 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 che penso possa essere utile a tutti e oltretutto è smart non vi ricordate che potete attivarlo anche con i comandi vocali dei principali assistenti domestici ebbene grazie a me ci spero che anche questo video vi sia piaciuto vi sia piaciuto come al solito vi ricordo che se c'è qualcosina che ho dimenticato di dire nel video riguardo al prodotto andate a far visita sul nostro blog www.vincesto.com e trovate un articolo correlato a questo video dove andiamo a scrivere un pochino tutti 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 i dettagli trovate il link anche in descrizione per esempio mi sono dimenticato di spiegare a cosa serviva quel connettore ausiliario che avete visto alle spalle della console lo spiego bene all'interno dell'articolo sul nostro blog vi ricordate inizio www.vincesto.com quindi vedete a farci visita bene anteprima succosissima anteprima ve l'avevo promesso vi avevo detto di guardare il video fino alla fine abbiamo ben due nuovissimi dispositivi della famiglia sonoff che sono prossimi ad essere recensiti esattamente lo switchman m5 2c 120 e lo switchman r5 cosa saranno cosa saranno i cartoncini sono ancora qui non li ho aperti non li ho solo guardati mi sono arrivati direttamente dai tier qualche giorno fa e mi appresto a testarli ea recensirli quindi è veramente tutto è veramente tutto da matera vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video un saluto licenzo ciao